Intanto ciao a tutti, mi chiamo Davide e questo è un corso, cioè diciamo è un talk, non un corso, appunto su come liberare il proprio telefono e come utilizzare il più possibile applicazioni open source e libere. Questa qui, il talk di oggi sarà più che altro una sorta di panoramica, un'introduzione e il meno tecnica possibile, il più accessibile a tutti, qualsiasi domanda è lecita, non c'è nessun problema, mi fa anche piacere insomma risolvere le domande e quello che io vorrei far capire è che vivere e utilizzare il telone form senza lungo e senza tutti questi servizi proprietari è possibile e non è neanche troppo complicato. Ci sono degli accorgimenti da prendere perché non è così scontato insomma, però si può fare, ecco. E ovviamente lo scopo è la libertà intanto del proprio dispositivo, la possibilità di la privacy e anche cercare di utilizzare il più possibile alternative etiche e che siano sostenibili e vedrete tutte come magari nei prossimi talk ci saranno. Qui non so se riuscite a leggere qualcosa, comunque dopo le slide sono tutte condivise quindi vi verrà passato tutto, giusto? Ok? Ci sono i miei contatti dove se avete domande, dubbi, curiosità o anche volete darmi dei consigli di qualsiasi cosa mi trovate, potete scrivermi su Mastodon, su Matrix, XMVP, la mail su Trima che è un'alterativa Signal libera e che i servizi sono in Svizzera comunque, oppure anche su Telegram. Qui non vuole essere una storia ma più che altro come io mi sono approcciato a questo mondo, quindi un po' come e come il modding è cambiato, il modding significa installare un sistema operativo differente sul proprio telefono, Android. Io ho iniziato giocando il Brasnake sul telefono di mia nonna, quindi un 83310, poi quando sono andato più grande mi hanno comprato il Motorola Razr che sarebbe il V3X il secondo e soprattutto smontato tantissimo con questo il Pezzo, il Samsung Star S5 230 che non aveva Android, però era l'anno in cui usciva l'iPhone 3G, l'iPhone 3GS, quei telefoni lì, questi che uscivano molto meno ma si poteva modificare l'interfaccia e far sì che fosse come quella dell'iPhone e io mi divertivo un sacco a provare a fare queste modifiche e c'ho anche un video e poi sono passato all'Android, il mio primo telefono è stato questo, un Samsung Galaxy Star Plus che è uscito con Android 2.3.6 Gingerbread perché è vecchissimo, perché è del 2011 se non sbaglio, è praticamente il minimo, mi restavo un po' stretto perché adesso le cose sono un po' cambiate, i produttori aggiornano leggermente di più, magari due anni di top di gamma, forse a volte quattro, adesso c'è anche la notizia che Google ha promesso che aggiungerà i Pixel per otto anni, però vediamo. All'epoca non c'erano aggiornamenti, usciva Android 2.3 e rimaneva così. Questa cosa a me non piaceva, io volevo provare un sistema più aggiornato perché nel mentre era uscito Android 4 mi piaceva e volevo provare e quindi ho rotato nel gergo, quindi ho ottenuto i permessi di amministratore sul telefono e ci ho installato Saliano GenNode, la versione basata su Android 4, che all'epoca restava creativo nuovo e hanno avuto delle funzionalità nuove ed ero contentissimo. Negli anni il modding è cambiato tanto perché all'epoca Android era molto basilare, quindi tutte le funzioni a cui siamo abituati adesso, anche banali, tipo il tema scuro per centrare la batteria, il multitasking e il carosello orizzontale, esempio la modalità una mano, non c'erano, cioè tutte queste cose Android stock, quindi Android puro, vanilla, come esce da Google, non le aveva. E però sulle funzionalità molto utili che comunque a me servivano le volevo provare e quindi il multitasking ti aiutava in questo, ti permetteva il multiboot, quindi all'avvio c'era una schermata in cui c'era scritto tu potevi installare più sistemi operativi, contemporaneamente, e ti devono aver scritto fuori che cosa vuoi avviare, vuoi avviare un multiboot, vuoi avviare Android, la versione 4, la versione 2, quello che vuoi, e si mette da fare. Negli anni questa cosa è stata un po' limitata, certe cose non si possono fare più, è molto più difficile, c'è stata più chiusura da questa parte, mentre Android inizialmente erano proprio come molto libero, quindi tante cose venivano fatte e si è più complicato fare certe cose. Il modding è cambiato perché tutte quelle funzionalità che prima non c'erano, adesso in Android ci sono, direttamente con l'Android Stock, quindi quello vanilla che esce da Google. E quindi non c'è più, diciamo, questo bisogno di modding per funzionalità ragazze, per arricchire la propria esperienza d'uso. Il modding oggi è vissuto per la privacy, quindi principalmente per utilizzare alternative libere, controllare il proprio dispositivo e cercare di slegarsi dalle gambe dorate di quegli ecosistemi come possono essere Google, come, vabbè, nel caso è diverso, ma tutti quegli ecosistemi che tendono a chiuderti. C'è infatti un termine che è devidualizzazione, che ovviamente, cioè, è la palissiano come termine, nel senso che è un movimento, diciamo, che cerca di liberare, di spingere gli utenti a non utilizzare tutte le applicazioni Google, quindi YouTube, i notori di ricerca, Google Drive, eccetera, eccetera, ma non solo dicendo, ok, non dovresti usarle per x motivi, ma proponendo delle alternative che sono valide e funzionano. In realtà, devidualizzazione è un termine che pare essere incentrato verso Google, ma comprende una sfera molto più ampia, perché riguarda tutti quanti da fama, quindi, vabbè, appunto Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, e... vediamo se... E l'obiettivo, appunto, come dicevo prima, di questa talk, che nella mia idea, come ha detto Alain, si snoderebbe, diciamo, su cinque incontri, vediamo, non so, è quello di, non soltanto di indicare, cioè, di indicare un percorso, una strada, per procedere a piccoli passi, quindi installare prima applicazioni libere, quindi, partendo, ad esempio, per dire dei nomi, come vedremo più avanti, F-Droid, che ha uno store libero, dove si trovano applicazioni che sono tutte FOSS, quindi libere e open source, e successivamente anche capire se esiste, quali sono le alternative valide ai servizi di Google, che sono la gabbia più principale che ci tiene legati all'ecosistema Google, perché tutto funziona in quanto ci sono i servizi di Google, senza i servizi di Google ci sono molti problemi, tante applicazioni possono non funzionare, vedremo come farle funzionare, e successivamente la mia idea era di andare su alcune di più, diciamo, tra virgolette, pratico, quindi sui telefoni, come, non so, io ne ho ancora dei due, quel che avevo, provare a installare delle custom ROM, quindi sistema operativo alternativo, che vedremo tutti quanti quanti, oppure anche parleremo di sistem operativi alternativi, quindi non soltanto di custom ROM, diciamo tra virgolette distro Android, quindi è sempre la stessa base Android, ma diciamo con delle aggiunte o qualcosa che viene tolto, ma proprio sistema operativo alternativi basati su Linux, quindi ad esempio io qui ho installato, che adesso ve lo faccio anche vedere, cioè se volete provarlo, cioè passarvelo, io non so se volete provare qui, qui ad esempio c'è PostMarketOS che non è Android, non è proprio Linux, è proprio due Linux, lì è basato su Alpine, e quindi si possono utilizzare tutti i classici comandi, a cui la maggior parte qui delle persone abituate, ci sono anche distribuzioni basate su Debian, su Ubuntu, diciamo, e vedremo quanto sono usabili, perché l'alternativa ci può stare, l'alternativa, ma secondo me, almeno nella mia visione, ci deve essere un compromesso tra usabilità, sicurezza e privacy, perché io posso avere tutta la privacy del mondo, ma se non riesco a telefonare, telefono è inutile, non mi serve a niente. Vedremo anche quanto funziona, ad esempio, nel caso di PostMarketOS come si installa, che in realtà è più semplice di quello che devono cominciare, esatto, io cercherò di essere il meno tecnico possibile e più accessibile a tutti. Poi, appunto, come dicevo prima, domande senza problemi. Nella mia idea ci sarebbero anche, almeno vedere un attimo, non soltanto sistemi basati proprio su Linux, ma anche qualcosa di più, tipo Dribus Selfish OS, che utilizza parte del kernel Linux, ma è proprio un'interfaccia completamente diversa che deriva da Migo, che è della Nokia, prima che fallisse, insomma, prima che ci trasformassi in quello che è oggi, che ormai, insomma, non è più quella di una volta, ecco. Ok, questa parte sarà magari un pochino più teorica, quindi magari può risultare un pochino, spero non troppo noiosa, ecco. Sì, esatto. Per capire tutto quello che faremo dopo, dei mattoncini sono fondamentali, altrimenti certe parti non si comprendono appena, non si capisce e si rischia, secondo me, di non procedere a una maniera corretta, ecco. Allora, come abbiamo scritto qui, e penso che non tutti, ma tanti sanno, Android è basato su Linux. È distribuito, almeno il core fondamentale di Android è distribuito sotto la licenza FAC2, quindi comunque una licenza open source, ma in realtà Android non è una distribuzione GNU-Linux, perché non integra nel suo core le libre IE, GNU non integra, e non è neanche un sistema Linux-like, perché il file system è completamente diverso da quello che è su Linux, richiama in qualche modo, ma è diverso. Anche gli usornamenti funzionano in maniera diversa, funziona molto similmente alle distribuzioni mutabili. C'è una doppia partizione di root, tutto un po' diverso da Linux classico, ad esempio su Dellian, su Ubuntu, come magari la maggior parte di noi è abituata. Non c'è neanche un server X, quindi non c'è Wayland, non c'è Xorg, o cose del genere. Tanti di questi componenti sono stati sostituiti da software scritto in Java, e quindi tanti più considerano Android come se fosse una distribuzione Linux per dispositivi embedded. Android è open source, ma bisogna fare delle precisazioni. Il progetto Android, AOSP, che è quello da cui deriva il codice sorgente principale, è libero e gratuito, è open source, e lo sviluppo di Android viene diretto privatamente da Google. Quando esce una nuova versione, tutto il codice viene preso e pushato sui repository, e per quanto il codice non è in modo corretto, diciamo in modo tra virgolette giusto, in cui lo sviluppo del software libero dovrebbe essere diretto, non c'è interazione tra community. Google lo rilascia quando vuole. Inoltre, tante componenti di Android, tutti i driver e i firmware sono proprietari. Esistono pochissimi riscritti, cioè si fa molta fatica a riscrivere tutti i driver di Android in maniera libera. Inoltre, c'è un progetto che è anche sostenuto dalla Freesoft Foundation che si chiama Replicant, dove c'è questo Android che ti ha gusti essere vero e rosso, che supporta pochissimi device perché tutto è riscritto, tutti i driver e i firmware eccetera vengono riscritti da zero, non utilizzando alcuna propria proprietaria, quindi è molto complessa questa cosa. In più, questa slide mi ha fatto un po' ridere, insomma il termine open source, perché effettivamente Android è così, cioè non è veramente aperto, però non è aperto quanto vorremmo. Il motivo principale sono i servizi di Google. I servizi di Google Open Services, che è la stessa cosa insomma, sono il core fondamentale da cui dipendono la maggior parte le funzionalità del telefono, insomma. Sono una sorta di framework, come ho scritto qui, una serie di librerie che tutte le applicazioni e tante applicazioni utilizzano per il loro funzionamento. La caratteristica dei servizi di Google è che forniscono una serie di microservizi attraverso queste librerie ai dispositivi, ai telefoni. Qui, adesso nella slide successiva, ho indicato una serie di servizi che vengono offerti, per esempio ovviamente la gestione dell'account. L'account Google non funziona se ci sono i servizi di Google, senza servizi di Google io non posso utilizzare l'account Google. Posso andare nel browser e loggarmi da lì, ma tutte le funzionalità di sincronizzazione dei contatti, del calendario, notifiche, non le ho. I servizi di geolocalizzazione funzionano attraverso i servizi di Google. Funzionano molto male senza le notifiche push, si basano sui servizi di Google. Senza i servizi di Google le notifiche non arrivano banalmente. Il backup del dispositivo o anche l'aggiornamento delle app. Se io non ho i servizi di Google non posso utilizzare il Play Store e quindi non posso scaricare le app. Allora, adesso non mi ricordo perché non sono androido, comunque mi pare dalla 12, non mi ricordo, sono state introdotte le autorizzazioni per le app, cosa che prima era molto basilare, erano in uno stato molto embrionale. Le autorizzazioni permettono ad app non di sistema, quindi ad esempio Google Maps se non è di sistema, di racchiudere il funzionamento all'interno di un recinto delimitato, quindi tu gli dici, nel caso della posizione, usa comunque i servizi di Google, solo che non ti traccia in maniera precisa ma usa una zona un po' più ampia, che può essere utile in alcuni casi, ma magari se io devo navigare in macchina mi serve la posizione precisa perché non posso andare in circa dove sono, non devo sapere dove sto andando. Una volta appunto senza le autorizzazioni tutto venivano dato in maniera indiscriminata, non c'era modo di, o era molto più complicato. I servizi di Google essendo applicazioni di sistema fanno quello che vogliono, c'è le autorizzazioni, se ne si sono tutte le autorizzazioni, non lo fanno qualsiasi cosa. C'è modo, e vedremo anche come si fa, di installarli come in alcuni contesti, perché non si può fare sempre, con applicazioni non di sistema, isolandoli in alcuni, diciamo, tra virgolette container e quindi vengono trattate come applicazioni normali, come applicazioni, qualsiasi applicazione che scarichi, io blocco certe autorizzazioni e quindi queste, e quindi appunto non ha accesso a queste informazioni. Inoltre Android stock puro, quindi quello normalissimo, quello diciamo che troviamo in qualsiasi dispositivo, quindi l'interfaccia, magari la UI cambia, ma sotto il cuore lo stesso, non permette a livello di privacy di far, ad esempio con le ROM libere, ad esempio Line e Joes, che è una delle più famose, si può bloccare, cioè c'è una sorta di file integrato, io posso dire ok, questa app qui, che ne so, l'app del telefono, non voglio che acceda a internet, perché non gli serve, io lo blocco. Oppure io l'app della banca, non voglio che acceda alla mia posizione, lo blocco. Oppure attraverso alcune ROM ci sono degli scopes, si chiamano, io concedo al, cioè tra virgolette, diciamo, questo termine è gran bellissimo, ma inganno l'applicazione, le faccio credere di averle date le autorizzazioni, ma in realtà non le avevo date. E quindi lei funziona lo stesso, non mi manda pop up, non mi rompe le scatole, ma in realtà non ha accesso a nulla. E in realtà è abbastanza semplice se uno vuole utilizzare gli strumenti giusti questa cosa. Ok, poi sì, non so se ho una domanda, vorrei chiedermi qualcosa, senza problemi eh. Scusa, qual è la passo? Ah, è 1.47. 1.47. Sì, che quella di due frutti di post-market-esque, comunque. Allora, che ne abbiamo in realtà un po' già accennato prima, quali sono in realtà, cioè perché a me, ma non solo a me, non piacciono i servizi di Google? Uno, come c'è scritto lì, perché sono il software proprietario. Il problema principale in realtà è il tracciamento che viene fatto dell'intente a fidi pubblicitari. Ogni device che usa i servizi di Google ha un ID, questo ID non si può eliminare, non si può cancellare, e questo ID non è usato a fidi tracciamento, per proporre pubblicità profilata, ad esempio su Google Maps o sull'applicazione di Google in generale, per profilare l'utente appunto a fidi pubblicitari. Anche la posizione stessa, ad esempio in Google Maps, e anche una ragione delle posizioni, viene utilizzata per cui guarda le luci in barri dove andiamo. Che può anche essere comodo, però c'è gente come me che non piace. Ad esempio anche le notifiche push, che è una notizia di cui ho messo il link qui, in italiano, così è anche più facile da capire. Le notifiche push che sono quelle che arrivano quando arriva un messaggino, che arriva il pop-up, non so, scritto Whatsapp, il messaggino. Quelle notifiche push, siccome passano attraverso i server di Google e i loro servizi, venivano utilizzati per il tracciamento, è successo anche un dibattito nel Parlamento americano per questa cosa qui. Poi c'è il problema che gli Stati Uniti non sono GDPR compliant, quindi tutti i dati che finiscono negli Stati Uniti non hanno la stessa garanzia, copertura di quello che noi abbiamo all'interno dell'Europa. Appunto perché il Governo dei Stati Uniti può accederci indiscriminatamente, anche senza processo. Non ho messo la legge perché non me la ricordavo e non l'ho trovata proprio quella legge precisa, quindi così. Mentre il Governo dei Stati Uniti, cioè io sono anche il Governo italiano, voglio accedere ai dati di i2o, per esempio, ci deve essere un processo, non è che accedo così. Cioè, dalle mani delle autorizzazioni. Nel caso degli Stati Uniti, questa, come si dice, non è garantito questo diritto per i cittadini extra statunitensi. Ed è per quello tutte le sentenze Schramms, tutto quel casino che è venuto fuori, è per questo. Perché gli Stati Uniti non sono GDPR compliant, la Svizzera, che non è europea, è GDPR compliant. Quindi rispetta e tutela i cittadini europei allo stesso modo dell'Unione. Poi, appunto, vediamo, ok? Dopo le cose brutte, diciamo, tra virgolette, esistono comunque quelle alternative che permettono di utilizzare il telefono in maniera identica, circa, vedremo poi cosa intendo con circa, a come utilizzare normalmente. Io non ho i servizi Google da, penso, tre o quattro anni, non ho nessun problema, mandare messaggi, rispondere, a chiamare, a navigare su internet, eccetera, eccetera. Ovviamente ci sono degli accorgimenti per fare questo, ci sono delle applicazioni da usare. Io non uso WhatsApp, ad esempio, oppure Chrome non lo uso, i servizi di Google, YouTube non lo uso. Ci sono modi di usarlo in maniera differente, non tramite le applicazioni di Google che, senza i servizi, non funzionano o funzionano in maniera diversa. Infatti parleremo di Micro-G, quindi capiamo in maniera sempre molto, spero, comprensibile per tutti, semplice. Micro-G cos'è? Come funziona? Come si installa? Posso installarlo lungo? Posso installarlo sul mio telefono? Perché sì, perché no? Micro-G sarebbe un'alternativa ai servizi? Esatto, ne parliamo troppo, ma Micro-G sarebbe proprio l'alternativa, la riscrittura libera dei servizi di Google. Non usano dati, a parte non usare tipo l'IP del device, ovviamente, o comunque se io utilizzo l'account Google, tramite ovviamente Google ha idea del device, dell'account, eccetera, ma si possono utilizzare senza account e tutte le applicazioni funzionano. Diciamo il 99,9% delle applicazioni funzionano. YouTube funziona, Gmail funziona, senza alcun tipo di problema. Vedremo una serie, nelle mie idee ci sarebbe di vedere una serie di applicazioni alternative che sostituiscono la maggior parte dei servizi di Google, per la sincronizzazione del calendario, dei contatti, per la mail, tutte cose abbastanza chilometri scontate che devono funzionare, perché se non funzionano il telefono è, come dicevo prima, inutile, perché è importante, cioè ci deve essere un compromesso, 100% di sicurezza previso è impossibile. L'usabilità è comunque importante dal mio punto di vista, e come dicevo prima, la difficoltà di liberare il telefono è appunto che questi servizi sono fondamentali per il funzionamento, e lo sono perché sono un insieme di librerie che vengono utilizzate nell'applicazione per funzionare. anche Huawei dopo il ban, quindi non potete utilizzare i servizi di Google, lo store, eccetera, eccetera, quello era il problema, che le applicazioni non banno, cioè WhatsApp non ti arriva la notifica, ad esempio, tutte le questioni di Google non funzionano, bisogna riscrivere i servizi di Google, ok, ma far sì che le applicazioni li usino. I Huawei mobile services sono questo, hanno riscritto in maniera differente, ok, però hanno cercato di dare un'alternativa ai servizi di Google, sempre proprietaria, per far funzionare le cose, il problema è che sono le applicazioni che devono, diciamo, supportare queste librerie, utilizzarle per far sì che funzionino. Micro G usa un approccio totalmente diverso, vedremo infatti come fa a funzionare, sempre in maniera, cercando di essere trasparenti e chiari, ecco. Il Play Store senza i servizi di Google non funziona, cioè se io non sono radiato con un account non posso scaricare le app, però anch'io lavoro, guadagno soldi, mi pagano in una banca, per dire, e l'app mi serve. Ci sono modi per scaricare le applicazioni dallo store di Google in maniera anonima, senza account, utilizzando applicazioni open, perché non sono applicazioni a pagamento, se c'è l'app che mi costa un euro, io non posso scaricarla gratuitamente. E' un frontend alternativo, diciamo, un'applicazione alternativa che si interfaccia con i servizi di Google e lì tutte le applicazioni sono FOSS, si basano sulle donazioni, se uno vuole ed una, se no, tra virgolette, diciamolo così. Ci sono modi anche, perché tanti sviluppatori lasciano anche le applicazioni direttamente su GitHub, già la pick up sarebbe tipo l'excel su Windows, per capirci. Ci sono modi per applicazioni che ti monitorano costantemente il profilo dello sviluppatore, quindi ti arriva la notifica, con il sviluppatore aggiornato l'out, clicchi la scarica e installi. Ovviamente questo puoi farlo solo con applicazioni che stanno sui tab, perché, non so, quelle della banca non ci sono, però appunto, come dicevo, vivono tutti i modi per poterli scaricare e utilizzarle tranquillamente senza grossi problemi. Va comunque detto che non tutto funziona. Bisogna un attimo prepararsi, nel senso che bisogna capire cosa funziona, intanto sapere che cosa si usa. Se esiste un'alternativa a quello che usiamo che sono libere e quindi funzionerà al 100%, oppure se quella cosa lì che noi usiamo e ci serve per forza, ci sono modi per capire se funziona, se non funziona, se funziona con problemi, perché alcune cose possono non funzionare. La fase iniziale è progettazione e studio del prodotto. Esatto. E consapevolezza. Esatto. L'importante è la consapevolezza, capire cosa serve e nel caso capire se funziona, se non funziona o come farlo funzionare. Quello che appunto io vorrei fare è una sorta di piccoli passi, partendo dall'applicazione libere, che almeno in uso consiglio, con cui mi trovo bene, e poi vedere i quali modi, come faccio io a capire se quell'applicazione funziona o non funziona, se è sicura, se non sicura, se fa chiamate, perché anche su Android si possono vedere le connessioni che il telefono fa. ci sono applicazioni, le clicco, mi installo e mi fanno vedere tutto. E questa cosa qui, secondo me, è molto utile per, come diceva Mauro, per consapevolezza, per capire cosa stanno usando e cosa le applicazioni stanno facendo. Esatto, ok, qui per dire che tutto quello che io parlo è frutto, diciamo, della mia esperienza, nel senso, magari, dopo delle idee diverse, io porto quello che è la mia visione del mondo, quella che sono le cose che per me mai sono importanti, cose che mi interessano e cercherò di renderle conversibili a tutti, ma appunto io parto dalla mia esperienza. E qui, insomma, che in realtà ne abbiamo già parlato un po' prima, vogliamo un po' di pro e alcuni contro della liberazione del proprio telefono, quindi di utilizzare alternative. Allora, sicuramente che c'è maggior controllo. Esemi un software che comunque è controllato la comunità, so che lo sto seguendo, so che chiamate fa, so che applicazioni in uso, posso installare l'applicazione del sistema, è molto più pulito, molto più sicuro. Ci sono delle ROM, quindi sistemi operativi, che ti permettono, appunto, il file all'interno. Quindi, come dicevo prima, posso aiutare che alcune applicazioni abbiano accesso alla rete. posso avere più profili, nel senso che anche su Android Stock c'è una multiutenza, ma è molto basica. Ad esempio su Divest, che è una ROM particolare, ci sono delle funzionalità molto avanzate, che permettono un maggiore controllo sul proprio telefono, e poi tutte queste cose qua, comunque le vedremo. E secondo me, aumentano di molto, appunto, la sicurezza dell'utente, ma la consapevolezza. Maggiore privacy, che va a braccetto. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. E soprattutto, esatto, riduciamo la dipendenza da un unico fornitore. Non siamo più in una sorta di gabbia all'interno della quale è difficile uscire. Perché anche quando, anche io, anni fa, usavo i sedizi Google, Gmail, l'account Google, tutto quanto, perché la comoda era fighissimo. Uscire da quel tunnel lì è complesso, non è semplice, anche perché alcune cose dipendono solo da noi. Ad esempio, se io voglio usare YouTube è una mia scelta, cioè non dipende da altri. Ci sono servizi che è molto difficile da impiazzare, ad esempio Whatsapp, perché Whatsapp lo usano tutti. E io non è che posso obbligare gli altri. Ci sono nodi di usare Whatsapp senza avere Whatsapp, per dire. Che sono molto interessanti, secondo me. E anche questa cosa qui è una cosa, secondo me, che non tanti sanno, perché non tanti conoscono, ma è molto interessante. C'è modo di non utilizzare l'app di YouTube, il sito di YouTube, perché è pieno di traccianti, di cose che non sono proprio bellissime. In più, l'app appunto è anche chiusa, blindata, funziona solo con i servizi Google, senza servizi Google, non funziona YouTube. Ci sono modi, ad esempio, uno è quello che vuoi fare via via via, ma non ho mai usato OBS, quindi, boh, probabilmente devo anche capire meglio. E che si chiama FreeTube, che è su Linux, si può utilizzare, funziona anche, perché qual è la comodità di avere un account? È che io, mi sa, guardo un video dal telefono e lo metto tra i preferiti, lo vedo su un computer. Ci sono modi per fare la stessa cosa, che funzionano, usando software libero. Ad esempio, si chiama Piped, uno dei più famosi è Invidius, se si pronuncia giusto, ok, sì. Sono tutti modi, diciamo, per fruire gli stessi contenuti, ma senza dovere avere un account. È chiaramente un compromesso, l'idea migliore sarebbe usare PureTube, che è federato, è libero, è gratuito. E' perché è il modico. Esatto, ma non PureTube. Il problema di PureTube, diciamo, tra virgolette, problema, sono gli utenti. Nel senso, non c'è così tanto contenuto in italiano come quello che c'è su YouTube. È un po' il cane che si morde la cosa, io non lo uso perché non c'è nessuno, quindi nessuno lo usa perché non c'è nessuno. Ci sono mai più contenuti in inglese. Ci sono... Alternativi ci sono a tutto. C'è tipo il suo diverso che è tutta... È proprio un'alternativa, un modo completamente differente di vedere i social. Io non ho Facebook, non ho Instagram, non ho TikTok, non ho tutte quelle cose lì. Ma non tanto perché io non voglio essere alternativo fino a se stesso. È proprio un'idea che, secondo me, è sbagliata. E qui ci sono modi di, non so... Mastodon, che ho nominato prima, magari qualcuno l'ha sentito, magari qualcuno l'ha visto. C'è anche l'account di Facebook comunque. È proprio un'idea completamente diversa di utilizzare il proprio tempo e l'utilizzo del proprio telefono e cose del genere. Poi ho messo come lì un bellissimo articolo, che è anche in italiano, che comunque dopo di giro nelle slide ho scritto tutto, della Free Software Fabricio in Europe, che parla appunto del perché uno dovrebbe liberare il proprio telefono. Ho fatto anche una campagna che secondo me era molto interessante e fatta molto molto bene. Ok. Quindi cos'è Micro G? Che in realtà un po' l'abbiamo già detto. È la vera alternativa ai servizi di Google. Sono una re-implementazione, quindi una riscrittura delle librerie di Google che permettono di poter utilizzare praticamente il 99% di applicazioni. senza il punto di più problema. Funzionano notifiche, volendo si può utilizzare anche l'account di Google, funziona tutto. Io l'ho utilizzato una volta e grossomodo non mi ricordo le applicazioni che non funzionano, onestamente. Comunque ci sono siti, ci sono applicazioni, ci sono risorse di cui parleremo che aiutano perché è difficile capire se un'applicazione funziona o non funziona, se non ho quel sistema alternativo su cui la installo e capisco se va. O cerchi di via eccetera. Ma ci sono applicazioni che funzionano tipo Wikipedia dove Qube può inserire dei commenti, delle cose che sono utili a tutti. Quindi ad esempio io ricerco l'applicazione lì, la trovo, c'è il bellino verde, il sito funziona perfettamente, c'è qualche problema. Non funzionano, ci sono vari commenti che sono molto utili, ci sono siti che ti aiutano in questo. E poi vengono i forum, i telegram di utenti, poi come ho detto potete anche scrivermi una mail, mandarmi un messaggio, chiedermi qualcosa, non c'è nessun tipo di problema. Il tono più prossimo nella mia testa è qualcosa di più di vascavico, nel senso di più teorico, dove vedremo le varie ROM che esistono. Come faccio? Perché ne esistono tante. Come su Linux esistono tantissime distribuzioni. Quale sceglio? Quale è meglio? Quale uso? Quale uso? Quale uso? Lo uso Divest. Divest OS si chiama. Però ce ne sono tantissime e ovviamente non le tratteremo tutte perché sennò è un elenco infinito che non ha più senso. Ma capiremo quali sono secondo me le migliori, quelle che ti danno più usabilità, quindi dove funziona tutto, e quelle che ti danno più sicurezza, e quelle che stanno nel mezzo. Quindi per rispondere alla tua domanda, che non so se hai risposto giusto, una volta... Cioè non è che devo seguire? No, 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 ci sta. Mi stavo disegno. Volevo fare una marcazione su cui il telefono dovrebbero fare il mismo. E una volta potete farlo. Adesso... Adesso no. non puoi... Cioè... Ci sono alcuni device dove il multiboot è permesso, ma devi proprio avere quel telefono, sennò tendenzialmente non funziona. Ehm... Una volta i servizi Google non esistevano. Cioè era Android fino al 5, mi pare. Quindi Android 8, che sarà stato... non mi ricordo l'anno. Comunque era differente, c'era molta più libertà. Poi piano piano sono stati... Google ha creato questo... Android è sempre libero. Quindi diciamo la licenza a baci è sempre quella. Però tutti i servizi che erano nel sistema, e quindi erano liberi, sono stati piano piano improvati in questo corpitario che sono i servizi Google. E appunto tutte le funzionali di sincronizzazione eccetera eccetera non sono più permesso. Cioè è molto complesso. Non sono neanche disinstallabili. Tu non puoi disinstallare così, clic e disinstalla, come... non so... Scarichi l'applicazione da Google, ma dal Play Store e la disinstalli. Non puoi, perché il sistema puoi disattivarla, ma fino a un certo punto. E capiremo appunto bene cos'è il microg, come si installa, se posso installarlo ovunque. Perché vedremo che non posso installarlo sul mio telefono così com'è. E che non tutti i telefoni purtroppo si possono sbloccare completamente. Quindi sostituire diciamo il sistema operativo. Perché lo sblocco non è permesso. Adesso ho tutti i telefoni cinesi. Quindi Oppo, Vivo, tutta quella cosa lì. Xiaomi, Disney. Cioè diciamo che è molto complicato e molto rognoso. Perché devi mandare una mail cinese a loro che dopo una settimana ti mandano il codice. Cioè è una rottura di scatole. Però è con un programma che funziona solo su Windows. Ok? Però si può fare un Windows. È libero possibile. Sì, ehm... A me quelle cose non piacciono perché ti complichi la vita per nulla. Appunto, capiremo che se io voglio un telefono libero devo anche capire cosa devo acquistare nell'idea. Poi, cioè, non tutti costano mille euro, eh. Ci sono... Un telefono secondo me ottimo se io voglio partire è il Moto G32 che si trova... La versione per 8 256 giga di spazio si trova su 120 euro. Che non è tantissimo. Cioè, ok, sono sempre soldi, eh. Non è che... Però, insomma... Eppure funziona tutto. Si può liberare completo. Sni, nel senso Ubuntu Touch funziona, supporta tantissimi dispositivi. Ubuntu Touch sarebbe, diciamo... Inizialmente... Faiso 2010, forse... C'erano oggi... C'erano diversi... C'erano diverse alternative, ad esempio, che stavano nascendo proprio... Perché Android era appena nato, tra virgolette, nel 2008. Android era, comunque, agli inizi. E c'era spazio per quelle alternative. C'era Firefox OS, ad esempio. C'era Selfish OS. E c'era anche Ubuntu Touch. Che era l'alternativa proposta da Ubuntu. Poi questa cosa è morta. E' puntato avanti Ubuntu Touch da Community. E' un progetto community driven. Quindi ci sono persone, diciamo, tra virgolette normali. Che sviluppano, vanno avanti. E supportano tantissimi device. E loro, per far funzionare tutto. Quindi fotocamera e tutto quanto. E' un vero dei mageggi che, appunto, cercherò di spiegare. Insomma, sperando, insomma... Nella maniera più semplice possibile. Il problema... Cioè, l'ostacolo più grande quando si vuole liberare il telefono. E' sbloccare il bootloader. Sbloccare il bootloader non è sempre... Cioè, non è il complesso. Ma ci sono, a volte, i produttori che ti mettono molti ostacoli. Quindi non ti danno la possibilità. Cioè, non è come sentita. Io prendo questo computer. C'è Windows. Mento Linux nella chiavetta. Collogo. Vado nel BIOS. Avvio la chiavetta. Fatto. Cioè, mi sembra di capire che Android adesso. E quello che era Linux. 11 anni fa. Puro o meno. E... Ci sono delle complicazioni. Per esempio... Fa strano, ma i telefoni di Google, i Pixel, sono quelli più facili da sbloccare. C'è un comandio... Fatto. E' molto semplice. Infatti esistono installer web. Che io colleggo il telefono al computer. Apro Chrome. Scaccio Start. E fa tutto lui. Io non devo fare niente. Sono... Alcuni no. I OnePlus 9 non li ho trovati. Perchè costano effettivamente dopo. Però fino al 6, che è quello che gira quella che parte. I OnePlus 6 sono i telefoni più supportati anche da Linux. Quindi è per quello che l'avevo preso e usato. Così per provare. E per aggiudicare un po' con Linux sul telefono. Ehm... Fino al 7, forse l'8. Sono molto semplici da sbloccare. Sono come i Pixel. I due comandi fatto. Già Fairphone. Tipo questo. Comunque è un pochino più complesso. Perchè... Devono mandarti un codice. Per sbloccarlo. E' più una rottura. Il mio video è più drammatico. Però è comunque un passaggino in più. Stessa cosa. E' con Motorola. Anche Motorola. Ti richiedi mandare una mail con il codice. E' istantanea. Però è una rottura. Ma Huawei per esempio. Io ho anche sbloccato un telefono Huawei. E' stata veramente una rottura. Però ho dovuto smontarlo. Ehm... Diciamo. Smontare dei pezzettini. Che senza quelli non potevi sbloccare. Dovevi togliere dei pezzettini. Delle viti diciamo. Poi io non sono un elettronico. Quindi non so spiegarmi magari benissimo. Però comunque leggendo online. Per fare quelle cose che non ho dovuto aprirlo. E' stato... Cioè. E' molto scomodo. Si può fare. Ma se lo rompi. Se lo rompi. E' veramente un casino. E quindi. Soprattutto la scelta. Se uno ha questa intenzione qui. Deve essere abbastanza. Oculata. E previdente. Ehm. Sto facendo un problema nel casino. C'è un telefono. Un tipo telefono. Che se. Come ho detto. Che si chiama il telefono. Comunque la garanzia resta. Esatto. Anche i telefoni. No. Appunto. Eh. No no. Esattamente. Eh. Ci sono. Lo svuoco del bootloader. Quindi. Permettere. L'esecuzione di. Sistema operativo alternativi. Diciamo. Tra virgolette. Ehm. Non è permesso. Ehm. Cioè. Invalida la garanzia. Nel 90% dei produttori. Motorola. Invalida la garanzia. Quindi se io. A me non ho messo su nulla. Però. Per capitare. C'è un problema. Invalida la Motorola. La tigono. Eh. Google. Per esempio. Con i pixel. È molto. Lasca. Quindi. Tendenzialmente. La. La garanzia non viene invalidata. Però. Non c'è scritto. Nero su bianco. Quindi. Potrebbero. Cioè. Ha. La loro discrezione. Ehm. So. Un po' un bivis. Secondo me. Perché mi hanno letto. Cose. Non è proprio. Chiarissimo. Però. Tendenzialmente. Non ti danno. Non ti validano la garanzia. Sbloccando il bootloader. EOS. Che è. Un sistema. Operativo. Diciamo. Dallato su Android. Ma più alternativo. Che ti offre un ecosistema. Ehm. Completo. Ehm. Loro. Non. Se tu. Lo volessi. Sbloccare. Il telefono. Non mi validano la garanzia. Noi vedremo. Che. Ehm. Non. Non serve solo. Comprarsi un telefono. Sbloccarselo. E fare tutti questi passaggi. Che magari. Possono essere complicati. Non sono a portata di tutti. Ehm. Possono anche spaventare. Insomma. Ecco. Perché. Insomma. Si vedono scritte strane. Nere. Cosa che fanno. Ci sono aziende. Come. Murena. O come. Iode. O come. Vella. Che sono. Tendenzialmente straniere. Quindi. Non so. Tedesche. O finlandesi. O francesi. Che. Vengono. Già. Telefoni. con. Iode. Iode. Ehm. 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 E quindi. Ehm. hm. Ehm. 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 facendo video su YouTube magari è meglio avere l'account di Google, cioè è molto più comodo ma ci sono modi appunto che vedremo ad esempio con graffine MS che è considerata la ROM vedremo perché è migliore di tutte che ha un sacco di funzionalità esiste solo su Pixel quindi non si può utilizzare su telefono di Google per ragioni di sicurezza che loro dicono e spiegano e anche perché sono più facile da supportare perché sono quattro, non hanno la marea di device hanno un sacco di funzionalità tipo appunto che forse ho detto proprio prima di Scope, quindi vengono date delle applicazioni da autorizzazioni fittizie l'applicazione è convinta di ma in realtà non ha autorizzazioni ci sono le applicazioni i servizi Google possono essere installati con l'applicazione di ogni sistema quindi funziona tutto, cioè non c'è nessuna app che ne va mentre sulle altre ROM queste cose non si possono fare perché è proprio un'esclusiva di graffine perché funziona, è implementata da loro e quindi sono comunque liberi ma nessuno la funziona su nessun altro telefono e vedremo tutte anche le funzionalità che in realtà è questa che c'è un po' a recap di quello che ho detto prima ad esempio in diverse ci sono un sacco di funzionalità interessanti ma che non sono legate alla ROM quindi in realtà usando alcune applicazioni è possibile crearsi due profili isolati dove uno può dire ok mi serve l'app della banca esempio o Whatsapp però non voglio che abbia accesso ai miei contatti non voglio che abbia accesso a alcune cose che non voglio per x motivi io posso creare una sorta di tra virgolette sandbox chiamiamolo container chiamiamolo scatola isolata dove c'è solo quell'applicazione lì io ad esempio ho una sorta di sandbox dove ho installato l'app della banca perché con l'app della banca lì vorrebbe forza l'accesso alla posizione quindi se io glielo nego non funziona però io non voglio darglielo non voglio che abbia accesso ai contatti ad esempio che anche quelli lo vuole io la installo in una sandbox che è isolata rispetto al sistema e quindi tu puoi anche dargli l'accesso ai contatti ma non ci sono contatti perché è come proprio se fosse un profilo differente con le storie delle chiamate un sacco di cose che magari una lì inizia l'ha installata ha fatto tac 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 ha raggiunto questo l'ha essere preso pure ed è una però tutta questa cosa qui ad esempio dell'assemble non è complessa è un'app di installi selezioni l'app che viene nel container fa tutto lui cioè è proprio semplice io in realtà avrei praticamente finito appunto quello che volevo un po' parlare nel prossimo tour che era queste cose qui poi magari anche qualcos'altro è sempre purtroppo un po' teorico quindi me ne va le domande parlo io me ne va le persone un po' ragnoso però appunto come dicevo prima sono le cose basi per capire perché se io non capisco cosa è divest e perché è meglio di altro dal mio punto di vista quali sono le differenze di tutte altre cose non so neanche cosa sto installando se non so cos'è il bootloader perché come sbloccarlo eccetera cioè non capisco quindi ok bello vedere uno che fa le cose ma dopo non so farle che l'obiettivo sarebbe quello che bisogna già pescare sì che almeno uno fosse in grado magari almeno di capire il meccanismo poi magari uno ha dei problemi e vuole un consiglio mi scrive non c'è nessun problema qualsiasi domanda cioè nel senso se fa nessun problema molti telefoni nascono a loro con il loro sistema quindi non ci sono soprattutto di base gamma non ci sono aggiornamenti forse c'è un maggior update quindi dalla versione A passo alla versione B da Android 3 c'è a 14 mortali però mai il telefono lo uso per 5 anni 4 anni 3 anni non ho aggiornamenti di sicurezza non ho niente quindi utilizzo un device che non è sicuro grazie a queste roba alternative che vengono aggiornate cioè ogni mese ma addirittura ogni settimana arrivano update volendocene da installare in alcune tendenzialmente sono mensili tutte le pezze di sicurezza e viene supportato per molto tempo ad esempio il telefono che io usavo prima di questo che era un vecchio Lenovo P2 del 2015 io l'ho usato fino all'anno scorso avendole 13 e pure il numero dal produttore nato uscita l'amore di 7 non ha mai avuto aggiornamenti però utilizzano un telefono che ha un stato attrativo moderno recente potete usare tutte le funzionalità cosa che altrimenti non puoi fare e poi appunto una cosa sicuramente importante vedremo cosa sono tutte queste castoreme che abbiamo nominato un po' accennato così quali funzionano con Micro-G come funziona appunto con Micro-G e i livelli problematiche ci sono le differenze tra l'una e l'altra perché dovrei scendere l'una e l'altra e quale e quale file al caso mio e quindi partendo da cose semplici installo un'app che tutti sanno fare chiunque può fare provare mi piace mi trovo bene eccetera eccetera io per trovare l'alternativa alcune volte ci ho messo un sacco di tempo perché non le conoscevo non le trovavo in giro non capivo e ho cambiato molto modo di utilizzare il telefono negli anni prima ho usato solo il locale non c'era l'account Google vabbè fine però non avere la sottimentazione dei contatti è scomodo cioè è molto utile avere anche scambiarsi file tra per esempio le impostazioni delle applicazioni sono backupate qui ma sono sincronizzate con questo computer come un computer di casa quindi so che se per x motivi mi siano per il telefono io le impostazioni andrà a parte semplicemente ok dovrò trovare un telefono nuovo sistemare questo o in quel sic modo prendo le impostazioni le rimetto dentro e ho fatto nel caso di Android diciamo che si integra abbastanza bene sia con Windows che con Linux secondo me che non so non l'ho mai provato quindi non lo so ci sono tutta una serie di strumenti per integrare meglio ad esempio se uno installa ci sono applicazioni che ti permettono di vedere tutto la file sì esatto di vedere le notifiche sul pc la clipboard quindi è condivisa esatto io copio il computer lo trovo sul telefono viceversa ed è tutto molto sempre ci stanno un'acqua bene o male fatto su Linux essendo Android basato comunque utilizzando in parte cioè utilizzando il kernel Linux si integra molto bene è molto più facile sbloccare Android da un computer Linux che da Windows su Windows si impazzisce dei driver perché devi installare il programmino però il driver non riconosce il telefono e quindi c'è un sacco di lavoro da fare per capire perché non va non funziona su Linux la cacca di cavolo usa tutto quindi siamo al primo Linux quindi una certa parte di no la computer io non ho computer di Windows quindi non potrei anche la brava assoluto e diciamo che con Linux si integra benissimo poi ci sono tutti strumenti che in realtà sono basati su sincronizzazione peer to peer o cloud quindi funzionano su Mac funzionano su Android funzionano su tipo nextcloud nextcloud esatto oppure c'è ci sono un sacco di strumenti nextcloud e qual è il problema tra le tante di questi software magari tipo nextcloud vedremo che ci sono anche dei provider che ti danno cioè perché non tutti hanno la capacità di prendersi sul server e installarsi nel nextcloud per quanto non è così complicato non tutti lo possono fare lo sanno fare ma vogliono farlo nel tempo ci sono ecosistemi che utilizzano solo applicazioni libere e open che ti forniscono appunto questo ecosistema quindi io utilizzo questo ecosistema invece di utilizzare quello di Google oppure ci sono abitura provider che ti riguarda io ti ti do nextcloud e poi ci sono gratuita magari app che giro e poi ci sono quelle che hanno più spazi quindi costano di giusto e ah grazie e poi l'ultima cosa ci sono anche telefoni tipo questo che è un pinephone che è un telefono non soltanto al software libero ma tutti i driver e anche l'hardware è completamente libero questo è un esempio che utilizza soltanto distribuzioni basate su nemoc ma si può installare anche android per mettere il multidutto ad esempio e questa è la versione base ed è abbastanza scrausa quindi non è che si può proprio usare perché è molto lega però è più che altro per prova per vedere cose che esistono comunque anche alternative che sono completamente libere allora nel caso del bluetooth non so io ho l'altoparlante col bluetooth si connettano normalmente io ascolto un sacco di podcast in macchina o in musica senza problemi si può anche usare youtube music o spotify senza il client ufficiale usando dei frontali alternativi liberi nel caso scusa di android auto è un po' diverso perché android auto funzionerà con grafene qui su e con pixel nella prossima release che dovrà uscire in teoria a fine mese ma ad esempio su divest e altro nome android auto così non funziona non è supportato ci sono dell'applicazione tra l'idea ma non è che un android auto si se uno potesse restare nel suo modo dispositivo quali sono fatti indicati da il pinza dipende uno che c'è il motorolo no no aspetta quando tanti hanno chiesto ma cosa devo comprare cosa devo fare dipende dall'uso che uno ha nel senso no aspetta dipende cioè esempio non so nel tuo caso ma se uno fa tantissime foto e ha bisogno di fare delle belle foto il motor G32 ma ti dico guarda per foto da social va benissimo ma se tu devi che ne so fare foto non va bene perché è un base gamma non è per quello mi serve tanta batteria che ne so mi serve il 5G non lo so cioè sto buttando ora da caso ho bisogno di tanto spazio dipende il motor G32 ad esempio secondo me è un buon compromesso per iniziare perché costa poco si trova sui 120 euro la versione 8G di RAM e 100% di spazio si sbocca in maniera molto semplice ha un buon display la fotografica discreta e ha un buon processore non ha il 5G ad esempio se ha un server se non la usa la batteria funziona molto bene il motor G32 ad esempio è supportato ufficialmente all'IngOS da Calix sono due ROM che vedevano un focus differente però funzionano entrambe ci sono altri telefoni intenzialmente di Pixel o alcuni che hanno più magari supporto perché magari hanno un sacco di ROM che sono fatte diciamo da sviluppatori indipendenti che così nel tempo libero fanno le ROM magari durante la giornata per un po' poi si vedrà chi lo sa però hanno tantissimo supporto perché sono facile da sbloccare poi ci sono alcuni telefoni nel caso dovevo provare cose diverse tipo Fairphone tipo Volla che non solo supportano sono supportati da Calix da Lineage da Divest eccetera eccetera che sono ROM Android ma anche da Selfish OS che è un server operativo alternativo da Ubuntu da Linux poi è chiaro che uno mi dice sì ok figo ad esempio questo è fighissimo ma non c'è Whatsapp o magari non tutto è supportato perché i driver vengono iscritti e quindi non sempre funziona tutto magari funziona tutto ma il GPS no non c'è Google Maps è molto più difficile usare come telefono principale un telefono con dentro postmarket OS che è questo qui con Linux perché ti richiede molto più compromessi con Android le difficoltà sono molto cioè ci sono all'inizio ovviamente perché uno deve comunque cambiare il proprio utilizzo e capire cosa deve usare di cosa bisogno ma si può fare tranquillamente ci sono i sistemi sui di computer per emulare e in Sni ci sono di un autore Android ma non c'è un autore di Dive questa cosa così ci sono un autore Android se vuoi provare ma non è stessa cosa dipende un po' dallo sviluppatore i pixel erano tanto successo perché fino a non tanti anni fa costavano poco o molto meno da adesso il apporto qualità prezzo era molto molto valido ed erano faccia a sbloccare quindi se erano sviluppatore in tersi punti facendo tutto mi costava poco mi conveniva fuori che ora costavano molto di più marciavano un po' con la famiglia che sono faccia a sbloccare è facile da fare quindi altri device per l'X motivo hanno un sacco di successo per i dati il OnePlus 6 è supportato da il mondo non so dirti perché magari il 5 no si dipende ovviamente anche dall'hardware ma a volte sai ci sono quelle congiunzioni ad esempio il OnePlus One il primo device di OnePlus che era uscito con Sayano Genmode nel 2014 con gli inviti tutta una storia ok gli è comprensibile che abbia un sacco di supporto perché è uscito direttamente con Sayano Genmode che era una vecchia romcast esatto e poi ho mantenuto proprio la fame anche se adesso il target di OnePlus è completamente diverso cioè non è più focalizzato su diciamo quelli che intendono modare il telefono i nerd quei target lì si liberano dalle altre persone poi per i motivi ha molto successo se il phone per esempio nonostante abbia un prezzo abbastanza alto e per tutte le politiche che ha di inclusività di eticità di sostenibilità ambientale ha comunque un bel supporto sul target diciamo che c'è poco supporto perché vengono mangiati da quel punto di vista lì il nerd non è molto attivo una volta magari abbastanza adesso diciamo veramente poco sui device lo sabri tipo di smartwatch ancora meno ci sono degli smartwatch alternativi ad esempio quelli di Python di Pine64 che è l'azienda di Python o di la BangoJS se tu vieni il telefono ricondizionato ad esempio ci sono siti che li vendono inizialmente operativo quello di stock base ci sono però aziende che hanno appunto Iode Murena o Volla che loro vendono di fabbrica telefoni che hanno dentro ad esempio Billerome Android libera alternative Murena per quanto abbia dei problemi secondo me tra virgolette i problemi nel senso comunque vedremo le vedremo un po' tutte è quella più semplice da usare perché ti offre un ecosistema completo di default hai tutte le applicazioni che ti danno la secondezione di contatti tramite il cloud ad esempio e ti danno tutte le alternative che quindi io compro il telefono e lo uso metto l'account e sono a posto e uso tutte applicazioni libere a posto Grazie a tutti